Ok, salve a tutti amici di CryptoGem e benvenuti a un'altra puntata in cui parliamo delle criptovalute e oggi vogliamo dedicare questa puntata a Shiba perché in tanti mi avete chiesto del livello 001, un dollaro e mi avete chiesto dove andrà il prossimo target o quanto quindi volevo un po' fare un riassunto dell'ultima analisi tecnica e vedere un po' dove è andata l'analisi tecnica in confronto a quello che noi avevamo predetto in precedenza inoltre voglio ricordarvi che sto preparando un super video su Shiba che uscirà questa settimana non so esattamente quando, se domani o dopodomani, però ho preparato un sacco di informazioni addirittura facendo ricerche ho scoperto cose che non sapevo neanch'io però parlerò di Shiba dalla A alla Z che cos'è, molto fondamentale su Shiba quindi analisi fondamentale, analisi tecnica, tokenomic, ShibaSwap e tutti l'ecosystem di Shiba e cosa fare in futuro, sinceramente ho trovato cose molto molto interessanti e non vedo l'ora di condividerle con voi allora, cominciamo subito dall'analisi tecnica non voglio fare questo video troppo lungo perché come vi ho detto ne sto preparando uno molto migliore soprattutto su Shiba che voglio condividere con voi allora, intanto vi ricordo che l'ultimo video di Shiba ha fatto un sacco comunque di rumori diciamo perché avevo adottato dei livelli e avevo previsto i livelli in cui Shiba sarebbe andato a rimbalzare livelli molto importanti, questo video andatevelo a rivedere, avevamo designato il channel e come vedete nel channel noi avevamo puntato a dei livelli avevamo detto che se il prezzo continuava dentro questo channel probabilmente sarebbe andato verso l'alto se avesse rotto al di sotto di questa linea verde che è questa qui dove esattamente il prezzo adesso sta tradando se rompe al di sotto di questa linea andremo a rivisitare questo livello qua nuovamente perché? perché quando noi facciamo trading e ci sono dei livelli quindi non so cosa sia successo si è incantato trading view ok ecco qua allora quando si fa trading ok e noi riusciamo a trovare un channel dove fare trading tipo questo qua ok questo si chiama lower high lower high quindi quando si formano dei lower high come in questo caso vedete? lower high lower high vuol dire che il prezzo sta andando a rialzo sta formando un pattern a rialzo per rompere questo pattern bisogna che voi rompiate il di sotto dell'ultimo lower high che in questo caso qua o in questo caso di shiba è questo punto qui ok quindi se viene qua rompe al di sotto di questo livello spezza il trend perché non è più lower high ma c'hai un lower low ok comunque questa è la parte tecnica infatti come vedete questo livello che avevamo disegnato la scorsa settimana in verde si è rivelato molto importante c'è stato un fake breakout qua al di sotto però dopo shiba come se si fosse ripreso e quindi di nuovo ho fatto un po' di refresh scusate ok come vedete il prezzo è arrivato qua stava per andare giù poi è ritornato di nuovo sul livello questo qua quindi non ha confermato il breakout quindi non c'è stata nessuna chiusura ufficiale al di sotto di questo livello infatti se andate a vedere le candele daily questa questa candela non è riuscita a chiudere al di sotto della linea questa ha chiuso proprio leggermente al di sopra adesso siamo su questa linea che è al di sopra ma ancora non sta chiudendo quindi quello che serve per continuare a confermare questo pattern che potete vedere a 4 ore quindi mettete il grafico 4 ore oggi il computer è veramente veramente lento assurdo ok scusate mettete il grafico 4 ore disegnate questo channel come vedete ha rotto il channel però non ha rotto il nostro punto fondamentale che serverebbe per rompere lo schema dei lower high quindi cosa succede questo è un punto molto importante da guardare da tenere sotto controllo perché se rompe e conferma una rottura giornaliera al di sotto di questo punto ragazzi mi dispiace ma aspettatevi ancora dei prezzi ancora più bassi ok seconda cosa se andiamo a vedere i pivot giornalieri ok come vedete questa candela rimbalzata esattamente su un pivot da 4 ore e se andiamo a vedere invece nel giornaliero siamo lontani dal pivot qua però siamo esattamente sulla linea come prima quindi vedete che l'ultimo pivot è stato qua ok perché essendo che c'è stato questo mega run up ovviamente tutti gli schemi tutti i pivot sono stati diciamo negati quindi è dovuto rifare nuovi pivot però a 4 ore si possono vedere i pivot quelli nuovi su cui il prezzo sta giocando quindi come vedete livello importante come resistenza ci abbiamo questo ok del 3841 e poi ci abbiamo il pivot ok il pivot che è circa sui 2341 quindi dobbiamo rimanere al di sopra di questa linea non dobbiamo spezzare il pivot al di sotto se spezziamo al di sotto del pivot e di questa linea e confermiamo una chiusura non è un bello scenario ok questo è quanto riguarda l'analisi tecnica in quanto riguarda abbiamo visto anche l'altra volta i cosiddetti fibonacci quando li abbiamo disegnati i fibonacci vi ricordate che ho detto comunque sono importanti i fibonacci ecco se andate a vedere i fibonacci shiba è proprio andata a rimbalzare è ha chiuso al di sopra dello 038 di fibonacci poi è andata di sopra ed è rimasta qua su quindi come vedete sia il fibonacci sia il pivot sia la nostra analisi di supporti resistenze di channel tutto ci danno come punto importante questa zona qui e infatti vedete il prezzo che è andata a farci trading dentro si può sopporre si può sopporre che si sta formando un altro un triangolo che sta comprimendo il prezzo quindi questo triangolo può rompere in due zone ed è un un pattern che può essere o bullish o bearish dipende dove rompe infatti di solito i trader piazzano a due ordini pendenti sia al di sotto che al di sopra perché se rompe qua molto probabile continuare verso l'alto se rompe al di sotto può continuare verso sotto quindi ricordatevi anche questo pattern che si sta formando su shiba molto fondamentale molto importante allora io so che ragazzi voi adorate i miei video su shiba e tutto quanto però ricordatevi anche che io faccio analisi tecnica su ethereum bitcoin e altre cose e se aveste video i miei precedenti video su bitcoin a quest'ora avreste fatto dei grand trade avreste fatto anche un sacco di soldi perché noi avevamo individuato questa falling wedge falling wedge here qua quindi avevamo preso bitcoin qua e a questo momento siamo arrivati quasi al previous all time high ok avevamo individuato qua quindi come vedete l'analisi di bitcoin sta andando molto molto bene come quella di ethereum cardano xrp ok adacardano anche abbiamo fatto ottimi studi su adacardano come vedete anche adacardano si trova dentro un channel che deve rompere da qualche parte molto probabilmente molto probabilmente da verso l'alto quindi io domani farò o dopo domani farò un altro video su shiba però ricordatevi di seguirmi anche per il video che faccio sulle altre criptovalute se volete fare soldi in tutti i modi che alla fine non affezionatevi a un asset ma affezionatevi ai soldi che questi asset possono portarvi e quindi se avete mancato il treno di shiba ci sono altri treni in partenza anche molto più sicuri certe volte su cui salire o per chi piace fare dei trading comunque sapete noi abbiamo un gruppo che stiamo lanciando ultimamente con delle analisi ok e quindi lo farò gratuitamente per le prime persone che entrano dentro quindi se volete ragazzi seguitemi io qua cercherò di farvi le migliori analisi in modo che voi potete fare trading per quanto riguarda shiba questo è tutto da oggi spero che vi sia piaciuto il video e ci vediamo alla prossima puntata ciao